Matteo Lardo, il risultato della giornata è il cereale che spugna il campo del Campomorone, una partita importante e tre punti pesanti. Tre punti pesantissimi per noi, per Notica Salvezza. Tutta la settimana abbiamo lavorato in maniera impeccabile, abbiamo preparato in maniera ottima la partita e siamo riusciti a portare a casa questi tre punti, non dico insperati, noi avevamo due risultati utili, loro dovranno per forza vincere per poter ambire alla promozione diretta, abbiamo portato tre punti a casa in Notica Salvezza, incredibile, fondamentale. Sarà banale ma ormai sono tutte finali fino alla fine? Ormai sono tutte finali fino alla fine, abbiamo iniziato domenica scorsa con il Leggino in casa, con una grande vittoria, oggi ottima prestazione su un campo difficile contro avversari tosti che meritano il primo posto in classifica, quindi sono estremamente felice per tutti.